Ben ritornati con noi cari telespettatori, siamo in diretta, siamo supportati come vedete anche dal logo da Feder Contribuenti, ben ritornato Marco Pacagnella, presidente Feder Contribuenti Veneto e ben ritornato l'avvocato Fabio Dallamura, legale di Feder Contribuenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i quotidiani a carico di una persona. L'esempio di questa persona che non può essere qui con noi in studio quest'oggi perché sta lavorando e non ha avuto la possibilità di lasciare il posto di lavoro ovviamente, però ha già partecipato alle nostre trasmissioni, sono casi esemplificativi, in realtà poi a livello regionale e nazionale ve ne sono anche molti molti altri. L'associazione segue molto da vicino queste persone, cerca di supportarle perché veramente si può arrivare a situazioni di esasperazione e soprattutto brancolare nel buio senza il supporto di chi conosce bene le questioni dal punto di vista anche legale, sa muoversi dal punto di vista giuridico e interagire anche con l'entità banca è senza dubbio preferibile. A lei la parola Presidente, vediamo di inquadrare la situazione. Sì, partiamo dal presupposto che le sentenze non si commentano ma si accettano per come sono. Noi comunque però questa non l'accettiamo nel senso che fuori da qualsiasi ombra di dubbio la situazione l'abbiamo vista, l'abbiamo toccata con mano e la conoscevamo e non accettiamo che alcuna persona con qualsiasi carica o potere abbia possa negarsi la verità. Perché questa persona è stata, la signora Francesca, è stata offesa, è stata offesa da questa banca in maniera palese. Cosa succede? Aveva offerto un tot per concludere la controversia dicendo che è stato un errore che poteva succedere. Pranzava, insomma. Poi arrivare che un'entità del tribunale si metta a difendere la povera banca, questo ci fa arrabbiare parecchio. Avvocato, ci racconti bene i nostri telespettatori, tutto il caso più nel dettaglio, appunto con gli aspetti che lei può menzionare. Ma succede sostanzialmente questo, che questa banca va creditrice di una somma molto modesta, si aggira attorno ai 1500-1600 euro, se non ricordo male, nei confronti di questa coppia, marito e moglie, che abitano qui nella provincia di Padova. Quindi una cifra ridicola. Una cifra quindi modestissima. Per ottenere soddisfazione di questo credito, la banca non trova altro sistema che aggredire l'unico bene economicamente disponibile di questa coppia, che è sostanzialmente la loro casa di abitazione. Quindi inizia una procedura esecutiva nei confronti di questo bene immobile. Questo comporta oltretutto che il credito vantato dalla banca a quel punto aumenti notevolmente, perché chiaramente le spese legali, le spese per l'iscrizione dell'impoteca e quant'altro fanno aumentare il credito, che comunque è sempre nell'ambito di qualche migliaio di euro. Quindi stiamo parlando sempre di cifre modestissime. La signora si impegna, cerca una soluzione transattiva, si impegna a versare questa somma ratealmente, paga le prime cinque rate a fronte di questo accordo, dopodiché per motivi sopraggiunti ha perso il posto di lavoro, non riesce più a far fronte a questo debito e la banca riprende l'esecuzione nei confronti della signora. Quindi abbiamo una banca che cerca di impadronirsi, o meglio ovviamente di impadronirsi, poi mettendola all'asta, di una abitazione, di una famiglia, per un credito di qualche migliaia di euro, ma veramente poche migliaia di euro. E questo lo interrompo un attimo, ma non c'è, non era intervenuta una normativa nel frattempo che prevedeva che non si potesse procedere sui beni immobili di abitazione per cifre irrisorie o solo di carattere fiscale? Solo, solo, ciò che è ente pubblico, qua parliamo da privato a privato, la banca privata è un privato cittadino. Questo è solo per le situazioni legate comunque a Equitalia soprattutto, dove vediamo che però non viene neanche molto rispettato perché stiamo trovando dei casi dove tuttora tentano comunque l'esecuzione immobiliare anche al classico cittadino con la prima casa. E perciò anche il principio della salvaguardia della prima casa lo vediamo abbastanza debole. Cioè o poco rispettato o non so perché c'è parecchio bufera all'interno di Equitalia e cenziali orientati in questi giorni per i fatti ultimi, soprattutto di ieri, delle varie arresti che ci sono stati anche di funzionari infedeli. Perciò presumo che anche in mezzo a tutta la confusione si dimentichino di conoscere le ultime normative emanate dal governo. Chiamiamola confusione, come pensate che siamo proprio generosissimi. Dopo magari commenteremo anche i fatti recenti. Quindi, attenzione, non è che ti procedono... Quindi, esattamente, a fronte di questo l'unica forma di difesa in quel momento della signora in questione è quella di rivolgersi a feder contribuenti e attraverso e con il sostegno di feder contribuenti rendere nota questa situazione. Quindi rendere nota quella che ritiene una ingiustizia. Quindi viene fatta anche con il sostegno di feder contribuenti una manifestazione davanti alla sede della banca e viene data notizia sui giornali di questa situazione. Pur, lo si sottolinea, la signora non contestando il credito della banca perché comunque nessuno ha mai contestato. Questi soldi li devo. Questi soldi li devo. Li avevamo anche contestato il lasermente. Sì, ma comunque, insomma, alla fine, nella sostanza, la signora sapeva di dover comunque dare una certa somma alla banca, ha provato a darla ratealmente, si è detta disponibile comunque a cercare una transazione, a fronte di questa si vede con la prospettiva di perdere la propria casa di abitazione. La banca, a fronte di queste notizie giornalistiche, risponde nello stesso modo, quindi attraverso una nota diffusa dai giornali, con la quale manifesta la propria posizione creditoria, ribadisce la propria posizione creditoria, ma afferma, ed è questo il passaggio del quale poi la signora si è, lamentata, afferma che comunque quella della banca non è l'unica posizione debitoria della signora, dice che la signora è comunque debitrice rispetto a altri istituti di credito che sono intervenuti anche già nella procedura esecutiva. Allora... C'è una sorpresa, cioè... Esatto. Ma anche per la signora oppure soltanto per voi? No, beh, ha sorpreso sicuramente tutti quanti perché, anche perché in realtà, l'unica altra banca che è intervenuta nella procedura esecutiva è la banca diversa che aveva concesso a suo tempo il mutuo per l'acquisto dell'abitazione. In forza di questo era titolare anch'essa di ipoteca sull'abitazione e quindi una volta che c'è stato l'avvio della procedura esecutiva da parte dell'altra banca, della banca creditrice di qualche migliaio di euro, la banca mutuotaria per forza di cose ha dovuto comunque intervenire nella procedura esecutiva a garanzia del proprio credito. Ma va ribadito che il credito per il mutuo concesso per l'acquisto dell'abitazione era regolarmente pagato da parte della signora, quindi non c'era un debito scaduto, non era un debitore moroso la signora nei confronti della banca mutuotaria. Quindi tant'è che poi questa banca ha rinunciato a procedere oltre nella esecuzione. Quindi quello di cui si è lamentata la signora è il fatto di, a suo giudizio, essere stata ditata al pubblico come una sorta di debitrice seriale, cioè un qualcuno che non rispetta i propri impegni né nei confronti della banca né nei confronti, quindi a questo punto, di terzi. E questo le ha creato sicuramente un notevole danno nella comunità in cui vive. È una persona, dottotutto, molto impegnata anche nel sociale, all'interno della comunità in cui vive e non ha mai avuto nessun altro tipo di pendenza economica, di problemi economici di nessun tipo. La sua unica sfortuna è stata quella, a un certo punto, di perdere il lavoro. Ma, ripeto, al di là di questo, il fatto di essere addebitata in questa maniera, come, ripeto, una sorta, come c'è il serial killer, abbiamo il debitore seriale, è una cosa della quale la signora ha ritenuto di doversi lamentare nelle sedi giudiziarie. Quindi ha fatto ricorso al tribunale chiedendo che il giudice ordinasse alla banca di eliminare questa nota diffusa sui giornali e che venisse riconosciuto il carattere diffamatorio di questa nota. Il tribunale, in primo grado, ha ritenuto di dover respingere questa richiesta per una serie di motivi. Quindi, sostanzialmente, dice il tribunale, la signora non può lamentarsi di quanto è accaduto perché lei per prima ha dato luogo, dice testualmente, il provvedimento, ad una spettacolarizzazione della propria vicenda personale e quindi non può lamentarsi se poi la banca ha reagito utilizzando gli stessi metodi utilizzati al signore cioè rivolgendosi dando notizia di quanto è accaduto attraverso gli organi di stampa. Facciamo un punto però. Siamo arrivati perché a questo? Perché prima di arrivare a questo con l'avvocato che la seguiva c'erano stati più incontri con la banca per dire ma come per una cifra così irrisoria troviamo un accordo non ti può saldare subito fatemi una rateazione e concludiamo cioè perché portare in esecuzione un immobile per una cifra così piccola. Esatto, con la banca c'era un'entità fisica con cui era possibile dialogare? No, era molto difficile perché ti mandavano sempre le persone che avevano meno autorità possibile nel senso non riuscivi mai a parlare con chi aveva potere decisionale. E questo è un problema comunque. Ma perché noi cittadini dalle banche comunque siamo trattati in questa maniera alla fine finché c'è succo ti spremono poi comunque vieni gettato via. questo era anche per dare un segno anche agli altri correntisti dell'istituto per fargli capire attenzione che quando comincerà a piovere l'ombrello vi verrà tolto. E questo anche per dare un po' una lezione alla banca che forse ne aveva bisogno in questo caso per farla scendere e portarla più nell'umano e cercare anche di sviluppare tra l'altro questo ce l'hanno nello statuto anche delle banche che hanno proprio comunque l'articolo del sociale dove dovrebbero esatto soprattutto alcune tipi di banche la specie che stiamo parlando ce l'ha insomma esatto siamo arrivati poi a manifestare davanti alla banca e far intervenire i media che per me comunque sono importantissimi soprattutto in questi anni qua perché non c'era comunque nessuna apertura da parte della banca la banca si era puntata e che voleva esecutare e portare in esecuzione comunque l'immobile a quel punto poi quando si sono visti allora c'è stata questo tipo di apertura di dire vabbè chiudiamo questa situazione è già andata fin troppo a lungo gli facciamo una rateazione abbastanza bassa in modo che si possa che possa pagare le rate e la chiudiamo qua arriva il giorno dopo la sorpresa quella che diceva adesso l'avvocato Dallamura l'ufficio stampo loro che emanano questo comunicato scandaloso scandaloso soprattutto su una persona che si è attaccata con denti e unghie dappertutto per cercare di salvare quel po' che sono riusciti a farsi nella loro vita e sentirsi dire questo ma mia c'è una viene veramente l'ansia esatto viene veramente l'ansia perché questa cifra non riusciva a pagarla e adesso che ci arriveremo è stata condannata al risarcimento delle spese dell'azione dell'azione esattamente infatti il tribunale ha ritenuto di respingere la domanda della signora per questo e per altri motivi ritenendo sostanzialmente che la banca abbia esercitato una sorta di legittima difesa rispetto alle aperte virgolette accuse chiuse virgolette mosse dalla signora che quindi la signora di nulla possa dolersi a ulteriore sanzione della signora l'ha condannata al rimborso delle spese legali sostenute dalla banca per la difesa in questo giudizio non solo in applicazione di una norma raramente applicata prevista dal cosetto codice della privacy ha disposto ulteriormente il tribunale che né l'una né l'altra parte possa dare divulgazione a questo provvedimento facendo i nomi delle parti questa è una norma ripeto introdotta dal codice della privacy della quale sinceramente io non ricordo altre applicazioni è la prima volta che la vedo applicata in questo caso è una norma bavaglio comunque anche perché le sentenze sono pubbliche ma comunque in ogni caso francamente in questo caso non trovo motivo per un'applicazione di questa norma visto non stiamo parlando può delle volte avere una sua ragione questa norma là dove magari si parli di minori comunque non vengono citati però dove ci siano situazioni particolari magari che possono consigliare una non divulgazione di determinate notizie o meglio dell'identità di determinati soggetti posso anche pensare che questa norma possa avere un suo perché ma in questo caso francamente non ne vediamo proprio l'utilità il motivo oltretutto la signora per il momento è risultata soccombente quindi non come giustamente diceva prima il presidente questa sentenza la accettiamo abbiamo fatto ricorso in appello comunque contro questa sentenza però al momento questo è il provvedimento giudiziario che fotografa la situazione dal punto di vista giuridico come giustamente si diceva prima è chiaro che si cerca di combattere questo questa soluzione perché riteniamo che comunque alla fine la signora sia stata comunque vittima di una ingiustizia di un sopruso proprio perché è abbastanza evidente il fatto che comunque se ci si trova esposti alla privazione del bene forse più importante che ciascuno di noi può ambire ad avere cioè la propria abitazione per somme così modeste questo è un pericolo che veramente se dovesse poi concretarsi a carico di tutti i debitori delle banche chiaramente comporterebbe un'ingiustizia sociale gravissima quindi riteniamo che la signora non abbia fatto nulla di male anzi abbia cercato l'unica strada possibile cioè quella di dare notizia di questi fatti ed è questo poi alla fine l'apporto l'aiuto non solo questo ma comunque quello principale che Feder Contribuenti può e deve offrire cioè fare da cassa di risonanza per questi casi dove altrimenti la signora non avrebbe avuto neppure il modo di difendersi perché anche difendersi in giudizio ovviamente costa soldi adesso si trova esposta a dover pagare quindi adesso la questione è rimasta a carico della signora certamente rimane comunque aperta la situazione debitoria ulteriormente aggravata dal fatto che deve pagare le spese legali attualmente abbiamo appunto fatto impugnazione contro il provvedimento quindi non deve pagarle immediatamente però dovrà farlo insomma a breve assolutamente quindi la situazione è effettivamente molto molto grave allora la situazione è molto grave so darò la parola anche al Presidente andiamo subito in pubblicità pochi secondi poi ritorniamo per vedere a questo punto quali sono le strategie che possono essere utilizzate come che posizione viene ad avere anche l'associazione Fede Contribuenti perché poi è un caso che può destare anche allarme allarme sociale e non è cosa da poco pubblicità poi torniamo con voi a questo punto a questo punto che non è che non è che non è che non è Grazie a tutti.